Avanti, avanti, accomodatevi, lasciate che vi offra qualcosa, ho io quello che fa per voi. Sapete, ci sono luoghi che non si raggiungono mai per caso. Luoghi come questo. Ogni decisione ci conduce inesorabilmente a un preciso quando e dove. Quindi non siamo qui per caso. Questo incontro non è casuale. Adesso non ricorderete quale gesto vi abbia condotto qui, ma io posso aiutarvi. Vi aiuterò a ricordare. Lasciate liberamente tra passato e futuro, fino al momento in cui le vostre gesto vi hanno intrappolato qui. Grazie. 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 Grazie.